Eccoci qui come è stato, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Vi ricordo che questo è il canale mio personale in cui parliamo di tutto, soprattutto di Milano ma non solo, quindi non mi dite parliamo a noi, questo non è Milanello. Volevo raccontarvi un retroscena clamoroso che ha raccontato Pasquale Guaro su Calciomercato, cioè che a Cerbi qualche giorno prima, forse un paio di giorni prima della partita con il Napoli, in cui ha detto certe cose a Juan Jesus e poi ha scoppiato il Finimondo, ha rinnovato il contratto con l'Inter fino al 2027. Lui aveva soltanto un anno di contratto, ora gli anni diventano appunto tre, con opzioni addirittura fino al 2028. Quindi per l'Inter l'eventuale decisione di rescindere il contratto potrebbe essere più complicata, visto che il contratto è più lungo o comunque più dolorosa eventualmente la decisione nei confronti di a Cerbi, che ieri in audizione ha confermato la sua tesi, quindi non si sposta di un millimetro, non ha detto certe cose, ha capito male lui. Sappiamo che però per la giustizia sportiva non basta dire sono innocente, devi dimostrarlo, e in questo caso insomma direi che è molto complicato dimostrarlo, quindi va verso una maxi stangata di almeno dieci giornate di squalifica, e l'Inter potrebbe rescindere il contratto, che ripetiamo però, pensate, in ironia della sorte, un paio di giorni prima è stato rinnovato fino al 2027. Devo dire che a Cerbi secondo me si sta giocando, magari non soltanto l'Inter, si è giocato probabilmente l'europeo, ma si sta giocando anche un po' oltre che le immagini, anche un finale di carriera che poteva essere diverso. Ripeto, incredibile, un paio di giorni prima è rinnovo fino al 2027, del quale credo che non si sentisse neanche l'opportunità, la necessità quantomeno, perché comunque aveva un altro anno di contratto di un giocatore che è anche un po' in la colletà. Ditemi che ne pensate, tutta la vicenda e come andrà a finire. Resta l'Inter, Rescinde, lo cacciano. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, numerosissimi, ci vediamo più tardi per parlare anche di Milan. Mando un abbraccio a tutti e un buon weekend, purtroppo senza campionato, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Un saluto! Ciao!